Arresto in flagranza per un 29enne residente nel centro storico di Salerno. La polizia di Stato, dopo una perquisizione effettuata presso l'abitazione dell'uomo, ha sequestrato nove confezioni di hashish per un peso complessivo di circa 9 kg e due confezioni di marijuana per un peso complessivo superiore al mezzo chilo. L'attività in questione è frutto delle operazioni di controllo e monitoraggio dei poliziotti della squadra mobile estese a tutti i quartieri cittadini ed in particolare a quelli dove il fenomeno dello spaccio di stupefacenti desta maggiore preoccupazione.